Musica Buongiorno, mi sentite? Quattro Allora, ripeto, un mese fa è stato inaugurato questo spazio Fermo Immagine, il Museo del Manifesto Cinematografico di Milano Chi c'era quel giorno conosce già lo spazio Chi è arrivato oggi per la prima volta Spero sia rimasto ben impressionato A me questo spazio piace È bello, è divertente Ci sono cose bellissime da vedere E oggi c'è una sorta di comple mese con un bel evento Abbiamo qui con noi, passatevi il gioco di ogni parola Il gigante della pittura, dei pittori di manifesti Si chiama Nano In Ale, il suo nome è Simbano Campeggi E dal 1947 al 1970 Ha illustrato e ha disegnato, ha dipinto Lui è un pittore Ha avuto dei grandi maestri Che lo hanno portato alla pittura Che poi si è dedicato a una cosa così Di intrattenimento come il cinema Lui ha dipinto praticamente di tutto Ha dipinto il manifesto che tutti conosciamo Ha realizzato il James Bond che tutti conosciamo Ha realizzato i ritrati di Marilyn Monroe forse più belli Per cui mi sembra che abbia dato il contributo alla storia del cinema Silvano Campeggi Per raccontare e per cercare di farvelo scoprire Abbiamo due simpatici esperti amici di Nano Grandi esperti di cinema Tanti sanguinetti che Le hanno portato La storia del cinema Prego Ma posso dire No, ma siccome No, io non so nulla Di cose che sono veramente Questa è vero C'è tutto da imparare E ci sono persone davvero più esperte di me Naturalmente Per il vampirismo della cosa televisione Non ci vogliamo perdere l'occasione Di avere Di avere questo Occasione unica Felicissima Sarebbe felicissime Alla fine di queste cose Di vedere queste bellezze Di sentire questi racconti Nano Ma anche il pittore E' proprio peggio Anche uno stradale Possiamo fargli domande Di tutti i tipi Sono emozionato E non mi succede Facilmente Perché facendo la questione Sapete che si ha Si impara ad avere una faccia Di pronto Ma lui è un'occasione Perché lui ha scontrato tutti Ha conosciuto tutto Può parlarvi di Abba Gardner Di Milisette Pinnelli Della Metro Godi In Medi Di Ciricità Insomma E' un'ante simulianza unica Imperdibile Favolosa Io preferirei invece Registrare questa cosa Secondo che La storia Purita Cos'è un obiettivo Tenendo stretto Questo narratore E' un pittore eccezionale E poi dopo Invece gli facciamo Se serve Puoi fare una chiacchiera Se avete piacere Do una mano Contribuisco Con la mia Spregiudicatezza E faccia tosta A dare una mano A capire delle cose Perché è un'ottima occasione In cui bisogna Spremmere l'occasione Bisogna veramente Cavalcare l'occasione Che ci ha dato Un fermo immagine E passeremo Alcune ore Fantastiche Grazie E allora Lascio la parola Non si scorda mai Si è stato bravissimo E veramente Mi sono emozionato Tutte le volte Che reagevo Chuck Ma i più emozionati Eravamo noi Perché Voi dovete sapere Il titolo Cominciava giustamente Anche lui Nano Il gigante Perché La prima volta Che ho scritto Su Chuck Ho scritto Quindi il titolo Era Nano Il grande Perché Un gigante Perché Noi qui Siamo Siamo questa persona Che è un pezzo Di storia Del cinema italiano Perché Perché lui Ha realizzato Oltre 3000 manifesti Lui ha già Detto qualche titolo Dal 46 Fino a Tieni anni Sessanta Sessanta Settanta Sessanta Settanta Ed è un gigante Un pezzo di storia Del cinema Per questo motivo Perché lui Era vissuto La dolce vita Quegli anni Quegli anni E attraverso i manifesti Ci ha saputo raccontare Che aria Si respirava In quegli anni Che anni erano Senti Io ho cominciato Il primo manifesto Che ho fatto Era il 46 Io avevo 23 anni E così È stato quasi un gioco E per l'appunto Ho detto Il primo Che Ho fatto Andare a cercare Perché Evitamente Era il momento Giusto Che diceva Ragazzi Qui Bisogna andare A buttarsi Sul lavoro Perché Fino allora Il pittore La cattava Più o meno Proprio stato Di Viagenti E sono nato Alla teografia In qualche maniera Ho riuscito A guadagliarmi Il nesso Come si dice A prima Ma Le cose importanti Non è che Capitavano A Roma E si comincia A fare film E stampare Manifesti La psicografia Fiorentina Lui dice Vai Guarda Di Portare via Manifesti E allora Pensate La fortuna Di aver fatto Il tuo primo Il mio manifesto E allora La zina L'anenna L'anenna Lo stanno Grazie Lo stanno Grazie In genocerdi Un film Di Stasetti Carabazzo Per il suo Guerra L'anno dopo Lo togliamo Vede Perché Rientrò La metro Nel dopoguerra E sapendo Che questo film E' stato Il primo Dell'incasso L'importante Che questo Primo L'incasso Freda Giustamente Era Quello Bravo Il mio manifesto Era Un aggeggio Non prestato I manifesti Diciamo che Servono A pubblicizzare Il film Cioè Sono quelli Che fanno Anche La fortuna Ma lì Dove Comparare E vi sono Tornato Di fronte Poi L'anno dopo Che guardate In giro Mi sono Documentato Un po' In giro Mi sono Guardate Di fare E' un Vento Con la Mese E Casa Braga Con la Vento C'è da dire Che lui Può raccontarci Nella fortuna Di averlo qui Perché può raccontarci Indietro le pinte Cioè Noi vediamo Ad esempio I manifesti Di Stello Questa donna Questa donna La gatta Sul tetto Sul tetto Che scotta Lui Era lì Cioè Noi Abbiamo L'immagine Di questo Manifesto E sappiamo Che dall'altro Lato Magari C'era lui Che Con il suo Pennello Era lì A dipingere Allora Visto che Si C'era Una mostra Qui su Vistello Proprio su Questo personaggio Cioè Sappiamo che Poi hai fatto Tanti manifesti Con Vistello I suoi occhi Con questi Riflessi Particolari Intanto Che personaggio Qual era il mistero Cioè Qual era il Mettaglio Che Accogliere Nei manifesti Ma Io l'ho conosciuta Già Quando torna a casa Adesso Quando era ragazzina Piccole donne Lei ha avuto La fortuna Di nascere Nel mondo Del cinema Ma Sì È stata bellina Ma molti ragazzi Lì Hanno fatto il film Da ragazzina Quando ce l'hanno fatto A diventare attrice Lei invece Ha avuto Questa grossa Satisfazione D'essere Brava La bravina Bellina E poi La donna Tutto tonto C'era di qualità Patogenica Ecco Lei pensa un po' Una cosa detta Dai personaggi Di servizio Che lei Non voleva La voce Non voleva La ripresa Il lato Lei Lasciava liberi Perché Per la bella Tutte le parti Era così Dabbe E noi Si è conosciuta Già Che non l'ho conosciuta Quando ho fatto Era ragazzina Perché arrivava Un film Dall'America Ancora lei Non era venuta D'Italia Invece Dopo Friventava Roma Spesso E pensa E pensa che Era portato Gli abiti Che lei Ha usato Quando Aspettava Il suo figlio Michael Con un bel Era Che aspettava Il mio figlio Giovanni Battista Mi ha chiesto Ti farò Un regalo Ti mando I miei abiti Che ora L'ho già messo Non era Non era la patarulla Della Diva E è stata L'intenzione Che poi Non so chi è stato Mi sembra Più me l'abbia fatto Lavoro Le prosse Ecco Si decise Di fare Questa Questa Andassi Negli Stati Uniti Mandarono Il possetto Negli Stati Uniti Perché Dovevo reggerlo Aggiungere Diceva Allora Un fascino Un po' di fascino E quindi Ti mandarono Proprio Da lei E allora Tra tutti In una sala In uno studio Grande Buio Perché Da una parte Abbiamo fatto Un angolo Illuminato C'era un cavalletto C'era il cavallo C'era stato lì L'aspettava Che arriva al segretario E non veniva Perché Era emozionata Perché Un pittore Fiorentino Non veniva Poi Vende la segretaria E mi viene Io Con 23 anni Alla rovescia E ho 32 anni E qua Ragazzo E A buio Raggiù Si vede Questa figura Bianca Scondizolante Che Era il nostro Sotto di noi E mi disse Sfaccia Maestri Mi chiede Non scordiare Maia Sono preso Un po' Sessi 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 Ma C'era Pesce Un po' Pinta Dove Che Stato E Da Allora Lei Io Ridoccavo Questo Volpo Di Lei Facciavo Tifesi Bufa Simpatica Poi Lei Ha ricordato Tanto E Allora Prendo Il Correggio Nel cino Ci portano Il Cestino Desilante Cestino Mi raccontava Che non l'aveva visto Ma a Firenze Lì La Firenze È una città Meravigliosa E Quando Viene La Firenze L'accompagno Lì E' Mai Venuta Nulla Non è Venuta Non è Lui E' stato Molto Grande Questi Cavalli Che Da Principio Non li Volevano Accentare Perché In fondo L'attore Non diventava Importante E Questi Cavalli Che Correvano E Poi Dall'America È Molto Il Benestare È Stato Stampato E È Stato Detto Il Maricato Più Bene Del Ceno Quello Di Benun Che Peraltro È Conosciutissimo Perché Sono I Due Blocchi Indietra Con la scritta Perù E Sotto Questa Pica Con i Cavalli Aspettate Una Sottostrazione Dicevamo Com'è nato Questo Baggio Di Via Colbello Perché Tutti Conoscono Quell'immagine Di Questo Baggio Famosissimo Perché Dietro Al Dietro Al Baccio C'era Atlanta Che Bruciava Quindi E Allora Questo Pio Questo Cuoco Questo Pio Di Questa Quella Diciamo Diciamo Che Dentro Dio Manifesti Però C'è Sempre Ispirazione Cioè Prendi Sempre Ispirazione Da Fatti Spesso Di Video quotidiano Devo Dire Allora Il Problema Nella Festo Vedendo Il Film Che Arrivato Dall'America Si guardavano Insieme E Doveva Essere Adattato Anche Della Pubblicità Per Il Gusto Italiano Che Anche Se In America C'era Cose Diverse Ma Il Gusto Italiano Certi Ose Non L'ha Truttata Permetteva Le cose Puglioni Tenere Tutte Le cose Che C'erano Di Corredo Al Film Pensate Ogni Scena Avevano Fatta Una Paglia Che Facchini Paglia Così E In Mezzo A Queste C'erano Diversa Espressione Detattori C'erano Diverse Scene Molto Belle Molte Però Non servivano Per Ma Rimane Vesta Bastava Un abbraccio Bastava Qualche Cosa Bastava Un Paglione Interrompo Perché Nei Suoi Manifesti Se Avete Visto Il Film Riconoscete Praticamente Il Riassunto C'è Il Senso Di Quel Film Il Menur Perché È Un Manifesto Spettacolare Bellissimo Grandioso Perché C'è Il Senso Del Film In Quella Immagine Quella Dica Che Corre C'è Tutto Il Film Pensiamo Un'altra Cosa Mi Sono Fissato No Avrei Capito James Bond Il James Bond È Il James Bond Che Ci È Stato Tramandato Nella Nell' Nell' Iconografia La Pistola Lo Sguardo Diciamo In quel James Bond C'è un po' Campeggi Perché Lui Aveva un po' Il vizio Di Alcuni Suoi Manifesti In fondo Lui Lì Realizzava Utilizzando Delle Fotografie Sue I suoi Amici Delle Scene Fatte In Casa Per Cui Là Dentro Secondo me C'è un po' Anche lui Quindi Era questo Che volevo Sottolineare Che Lui Veniva portato A vedere Il film In anteprima E Lì Praticamente Quando veniva Deciso Che Il film Sarebbe Stato Distribuito In Italia Lui Doveva Subito Immaginare Il Concepto Se non sbaglio Per cui Era una Creazione Quasi All'impronta Nel momento Dettata Proprio Dalla Dall'emozione Di aver Visto Quel film In quell'attimo Come nasce Il manifesto Cioè C'è Il momento In cui Vedete Il film Da quel momento Cosa succede? In questo momento Poi Dopo il film Cerchiamo Di Andare E Anche Di Anche Quello Che Poteva Pensare La Gitarge Che 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 Erano Americani Che Avranno Fatto Tutta La Trafina Per Diventare Delle Dio Che Conoscevano Il pubblico E Tutti Let Poi Stati Scelti In Italia Perché Il pubblico Italiano Era Già Diverso Però I Sentimenti Importanti Sono Gli Stessi Allora Sentivo Un po' Anche Loro Cosa Pensavano Cosa Preferito Di Mettere In L'evidenza Sesso O L'azione O La Parte Se Vedete I manifesti Sono Fatti Di Tanti Personaggi Fatti I Fatti Fanno I Fanno Lui Con La Spalla Di Tietra C'è L'Ancella Che Fa Capolino E Poi Della Giugliano C'è L'Iero Insomma È Raccontato Il film In Maniera Bisognava Sintetizzare Un po' Il film In Un'immagine Ecco Ci sono Loro E Dietro C'è L'Aslanda E Bucciara Quindi Diciamo Che C'è Un E Il Pittore Che Deve Sintetizzare E Convincere Anche Lo Spettatore